Ti devo dire, ho studiato vent'anni. Lavoro da trenta per questo bel risultato. Uno si ferma al ginnasio e inventa una mascatolata al giorno. L'altro morina alla scuola. Che c'è Marcella? Un momento, prego. Pronto? Sono Marcella. Chi parla? Ciao Marcella, ecco Sandro. Marcellina, tesoro. Brutto, lazzaruno ed un cretino che non sei altro. Cerca di fare ancora lo spiritolo e ti rende a calci. Becorelli, pastori. E' qui il somarello, eh? Bello. Un po' di neve la mettiamo sulla montagna. Perché la montagna ci nevica sempre, specialmente a Natale. Ci nevica, no? E il bambinello? Chi ce l'ha? Un momento! E mica posso fare il presente con cinque bambinelli?